Sale ancora la curva dei contagi in provincia di Agrigento, così come il numero dei ricoveri. Sono stati 102 i nuovi casi riscontrati ieri, 5 le nuove ospedalizzazioni e c'è stato un altro decesso avvenuto nel comune di Realmonte. I ricoverati in degenza ordinaria al San Giovanni di Dio di Agrigento sono così saliti a 28. C'è anche un nuovo ricovero in terapia intensiva per un totale adesso di 5 pazienti nella rianimazione del Covid Hospital di Ribera, dove ci sono poi 22 persone in regime ordinario, 6 infine gli agrigentini ricoverati presso ospedali fuori provincia. Due nuovi casi a Sciacca nelle ultime ore hanno portato a 38 il totale dei contagiati. A Ribera invece nuovi casi, ieri sono stati 4 e adesso i positivi sono 33. 4 a San Buca di Sicilia, 6 a San Biagio Platani, 13 a Santa Margherita Belice, 12 casi in più ad Agrigento che raggiunge quota 172 contagiati, 13 ad Alessandria della Rocca, 19 ad Aragona, 3 a Bivona, 7 a Burgio, 28 a Caltabellotta dove c'è stato un nuovo caso. Peggiora la situazione a Canicattì dove ieri ci sono stati 17 nuovi casi per un totale adesso di 187. Favara resta il comune agrigentino più colpito con 291 persone positive al Covid. 11 nuovi casi a Licata dove adesso sono 51, Menfi sale a 23, 5 casi in più a Porta Empedocle per un totale di 84. A livello regionale, anche ieri il numero dei nuovi positivi al Covid in Sicilia ha superato quota 1000 ed è aumentato ancora il numero dei pazienti sia nella medicina Covid sia nelle terapie intensive. I nuovi casi accertati sono stati 1.101 su 13.954 tamponi processati, il tasso di positività è così salito al 7,8%. I ricoverati nei reparti ordinari sono adesso 499, giovedì erano 473, pari al 14,1% dei posti letto occupati. 65 i pazienti in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, pari al 6%. 13 ieri le vittime che hanno portato a 6.134 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia, 392 i guariti. Grazie mille.